Noi, non è più lungo, è il 18 Juni, lunedì 18 Juni, mio compleanno, facciamo una grande serata, ospiti, DJ, Mr. Ricky, MC vocalista, Mr. Lele Jupp, direttamente da Napoli a Berlino, e io, Nico Muolo. Sono Mr. Ricky, ci vediamo il 18 di giugno 2018 per il compleanno del mio amico Nico Muolo al Maxim a Berlino. Sarà una grande festa, la prima festa dedicata alla notte italiana. Notti magiche, il 18 di giugno al Maxim, andiamo a Berlino, assieme al mio amico Lele Jupp on the fucking microphone, e poi faremo musica fino a tardi. Ci vediamo lì. Ciao ragazzi, volevo ricordare un appuntamento importante, il 18 giugno 2018 ci vedremo al Maxim di Berlino per notti magiche. Una notte tutta italiana, con buona musica e in console con me ci sarà Mr. Ricky per il 35esimo compleanno del Big Nico Muolo. Ragazzi, ci vediamo al Maxim, Berlino, 18 giugno. Non manchiamo, ciao. Ragazzi, tra un po' ci vediamo. La prima notte magiche al Maxim, la prima notte italiana a Berlino. Le tipe truccate come commesse di Moschino, e noi per piacere a loro truccavamo il motorino. Il tricolore impolverato, appeso in pitelleria, ogni ricordo è una boccata all'aria di periferia.